C'erano una volta due bellissime sorelle, Sofia, gentile, simpatica e generosa, e Giulia, che era egoista e sempre arrabbiata con tutti. Vivevano in un gran castello, tutto colorato, i sudditi le adoravano. Sofia sorrideva sempre, invece Giulia non parlava mai a nessuno. Un giorno le due sorelle decisero di andare a fare una passeggiata a cavallo, nel bosco dietro al castello. Sofia aveva preparato un grande cestino pieno di cose buone da mangiare. Arrivarono in un grande prato, Giulia stese la coperta per terra e iniziarono a mangiare parlando di tante cose. Giulia chiese alla sorella, ma come fai ad essere sempre così generosa? Bisogna pensare solo a se stessi. Sofia le dispose, cara sorella dovresti essere gentile col prossimo perché magari un giorno avrai bisogno anche tu di un aiuto. Finita la merenda, salirono sui loro cavalli e si diressero verso il castello. Dai, facciamo una gara, vediamo che arriva prima a casa, disse Sofia. Iniziarono così ad andare sempre più veloci con i loro bellissimi cavalli. Arrivata il castello, Sofia si girò verso il bosco e non vide più la sua sorella cattiva. Giulia era scivolato in un fosso. Aiuto, aiuto, qualcuno mi aiuti, sono caduta. Per fortuna passo lì davanti un contadino che subito le disse non preoccuparti fanciulla, ti aiuto subito ad uscire dal fosso e così fece. Giulia abbracciò lo sconosciuto che non aveva esitato un secondo ad aiutarla, lo ringraziò e si incamminò verso il castello. Finalmente aveva capito l'insegnamento che la sorella voleva darle. Bisogna sempre aiutare chi è in difficoltà perché prima o poi tutti abbiamo bisogno di un aiuto. Da quel giorno Giulia divenne gentile e brava come la sorella ed insieme regnarono felici e contente. Buonanotte bambini!